a noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone con un simpatico di rimpettaio no 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 non fate così perché voi siete molto simpatici no 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 lo siete lo siete pure io grazie assai grazie avete avuto altre visioni e chi è chi è che è un ghiattone che ha capo no senza capo la mitragliatrice un guerriero un guerriero se ho fatto mi ricordo veniva la proposte no senza proposte a capa a capa d'elefante sì 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 e me ma non lo avete visto più ultimamente e chi ne l'avranno congettato a rire vabbè non importa voi mi sono sul secafe alla vostra